ciao amore ciao che giornata il direttore mi ha fatto una lavata di testa e come se non bastasse ma anche i miei colleghi mi hanno fatto nero pensa che per uscirne ho dovuto fare i salti mortali più c'è riso più ti senti leggero solo i cracker riso sul riso di galbusera hanno il 30 per cento di grassi in meno e tutto il gusto del riso soffiato con riso su riso io ci riso su grazie